E' bellissimo, è la prima volta che vengo, è molto bello. E' la prima volta che veniamo, è bellissimo, veramente, è una cosa che non visco mai. Oggi è una giornata all'insegno del fiore. Da dove viene? D'Apriolo. Prima volta per l'inferata? Sì, è bellissimo, è uno spettacolo. Chiediamo a voi da dove venite? Salve da Melilli. Quindi da vicino più o meno avete fatto un po' di strada. Ed è un piacere ritornare da vedere questo spettacolo e questa cultura più che un altro, di noto, fantastico. L'avete già vista questa manifestazione in passato? Sì, altri anni, sì. E' sempre uno spettacolo, complimenti a noto per l'organizzazione. Come trascorrerete la giornata? E adesso dopo vedremo che c'è la sfilata barocca. Bene, allora vi aspettiamo sempre a noto. Comunque la Sicilia è tutta bella, restiamo in Sicilia per le vacanze estive. Assolutamente sì. Bene, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Possiamo chiedere da dove viene e quale sono le impressioni su questa infiorata, sull'edizione 2022? Vengo da Catania e è molto molto bella. Ben fatti un lavoro importante. Sono contenta che quest'anno anche hanno deciso di far pagare l'ingresso perché è una cosa non di poco conto. È un giusto riconoscimento per il lavoro che viene svolto? Assolutamente. C'è tanto lavoro, tanto impegno e la soddisfazione dopo tutto questo tempo, insomma, è merito. Aveva già avuto la possibilità di vedere le edizioni precedenti? No. Se l'aspettava così l'infiorata? No, l'ho vista un po' in tv quindi immaginavo qualcosa, ma la precisione dei lavori fatti è veramente importante, soddisfacente. L'aspettiamo al prossimo anno, alla prossima edizione. Bueno. Where are you from? Bene. Florida. Ok. Noto, beautiful. First time in Noto? No. Prima volta, no? No, due. Due volte, bellissimo. Bella Sicilia. Beautiful Sicily. Yes. We spent a month here, like 15 years ago. So we love it, it's beautiful. Bellissimo. Veniamo da Sciacca. Sciacca. Anche lei da Sciacca? Sì, sì. Prima volta, noto? Prima volta, complimenti. Bellissimo. Sempre bella, da noi veniamo la Caltanissetta. Qui dal cuore della Sicilia? Sì. È la prima volta che ammirate? No, no, no. Sarà la quinta volta, venivano spesso. Quindi vi piace? Sì, sì. Rispetto alle altre edizioni? Ma no, sempre a un buon livello, perché comunque sono sempre interessanti e sempre fatte bene, ben organizzate. Salve, possiamo chiedere da dove venite? Agligento. Agligento. È la prima volta, noto? Sì, la prima volta. Cosa ne pensate dell'infiorata? È meravigliosa. È meravigliosa. Complimenti. Complimenti. Da Balermo. Cosa ne pensate di questa manifestazione? Meravigliosa, meravigliosa. È la prima volta che partecipate? No, è la terza. La Calcini 7. Molto, molto bella. Prima volta? No. Quindi un'abituè. Molto bella. È la prima volta? Sì. Ritornerete quindi il prossimo anno? Penso proprio di sì. La ammiriamo non solo noi, Netini, ma anche tutto il mondo. È bellissimo vederla. Non solo vedere l'infiorata, ma vedere tutta la struttura, tutto quello che si organizza sotto. Dai vari stand delle Forze dell'Ordine ai piccoli stand degli artigiani. Con questa manifestazione cerchiamo di apprezzare tutto quello che c'è intorno a questa manifestazione. Sono i piccoli che la organizzano per noi, diciamo. Voi come vivete, come i cittadini di Noto queste giornate? Aspettiamo con ansia ogni anno, sempre con lo stesso entusiasmo. Siamo felici di rappresentare Noto con il suo barocco e soprattutto con questa manifestazione che è conosciuta in tutto il mondo. Cornice stupenda, località Notos, veramente meravigliosa. E siamo venuti apposta perché anche noi abbiamo visitato parecchio la Sicilia, ma questa giorno non l'abbiamo ancora visitata. E siamo veramente contenti e soddisfatti di vedere Noto e tutte le sue bellezze. Venite da Milano? Esattamente, sì, sì. È la prima volta in Sicilia? No, assolutamente no. Noi la conosciamo benissimo. Abbiamo girato quasi tutta la Sicilia, sì. È veramente splendida, è una regione che vale la pena visitare.